ciao a tutti ben ritrovati e soprattutto buon sabato allora oggi vi voglio parlare in maniera molto molto stringata delle due live di davide dal titolo un saluto a tutti voi ed è tornato il caldo ma soprattutto del video all di chiara con tante cose pucciose acquistate da primark allora per quanto riguarda le live di davide sono come al solito abbastanza noiosa e spiace dirlo ma è così in entrambe le live aspetta che entrino le persone aspetta che le persone parlino perché gli diano argomenti di conversazione perché al solito lui non si è preparato nulla e ha diciamo ascoltato il suggerimento di fiamma con la quale sembra esserci tanto feeling e cioè ha fatto le riprese fuori dal balcone ma questa volta non si è messo con le spalle contro la porta finestra come suo solito ma ha cambiato postazione e dietro le sue spalle praticamente c'è ciò che si vede dal balcone quindi la faccia e verso la porta finestra e noi possiamo vedere gli altri edifici e a un certo punto vediamo anche il tramonto e cosa dire allora in queste live ripeto come al solito parla poco canticchia molto soprattutto nel video è tornato il caldo e beve a canna del tè perché fa tanto 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 caldo e questo lo ripete in entrambe le live e si attacca appunto a questa bottiglia di tè poi come finisce a bere fa schiocca la bocca che sembra che stia masticando ciò che è rimasto appunto della sorsata di tè a un certo punto si sente chiara che lo chiama molto gentilmente cioè della serie davide e lui si alza e va a vedere cosa vuole la sua mogliettina dopo di che torna nella sua postazione ancora parla del caldo perché fa caldo tanto caldo io il caldo non lo sopporto e poi dice una perla e cioè dice che fa talmente caldo che sembra che ci siano dei blocchi di ghiaccio che ti cadono addosso adesso trovate nevo il significato perché io non ci sono riuscita e andiamo al video di chiara mega all stupendo ci si presenta seduta in poltrona con una canotta rosa di adidas cipolla come al solito e ci mostra appunto cosa acquistato da primark ci dice che era andata lì in missione barbie perché insomma è uscito il film lo sapete quindi è imperativo acquistare il più possibile per quanto riguarda appunto il marchio mattel e nella fattispecie cosine di barbie però lei insomma siccome non vuole far torto a nessuno ha acquistato anche altro e andiamo ad incominciare innanzitutto ci sfila dalla busta dei pantaloncini neri con la scritta rosa barbie tasche laterali oblique che dovrebbero essere per davide ma che a suo dire cioè a dire di chiara davide non metterà mai però il problema non si pone perché le indosserà lei in ogni caso questi pantaloni costano 16 euro ancora pantaloncini questa volta rosa sempre con la scritta barbie sempre 16 euro e purtroppo non ha potuto prendere il pezzo di sopra perché perché non c'era c'era sul manichino però non gliel'hanno voluto tirare giù e questo insomma dimostrazione che anche le leggende non possono avere tutto ciò che vogliono però qui si pone una domanda cioè se lei ha visto questa maglia sul manichino è possibile che sul manichino ci fosse una taglia che a lei poteva in qualche modo stare bene non è che la commessa non ha voluto tirarglielo giù questo pezzo di sopra perché magari ha visto che non c'era corrispondenza fra le taglie cioè quella che era sul manichino e la sua non si sa comunque lei è rimasta male perché questa commessa pur essendo lì per vendere questo a parte di sopra non gliel'ha voluta proprio dare ci informa però per chi fosse preoccupato che già lei ha mandato a comprare questo fantomatico pezzo di sopra per i pantaloncini della Barbie da Asos ancora ha acquistato ciabatte di plastica questa volta nere sempre stile tedesco in vacanza sono di paperino e mini e infatti sulle fasce quelle che sono al di sopra del piede praticamente ci sono queste figurine di paperino e di mini e anche le scritte e queste fantastiche ciabatte le ha pagate il modico prezzo di 11 euro e poi partiamo con i calzini perché perché comunque Primark ha cominciato a mettere anche cose autunnali e certo noi non vogliamo essere colte impreparate cosa ha acquistato ha acquistato delle calzini di Spongebob dai colori veramente molto sobri infatti abbiamo il giallo il verde acido insomma colori così sempre con le figure di questi cartoni animati al prezzo di 6 euro poi ci siamo assicurati anche i calzini dei Simpsons sempre dai colori sobri tipo verdolino azzurro e rosa e con le figure dei personaggi appunto di questo cartone animato per il prezzo di 4 euro dopodiché ci sono anche le calzine calzini scusate di sailor delle famose sailor al prezzo di 5 euro sempre con stampate sia i segni di quelle delle sailor sailor moon sailor venus eccetera eccetera e anche insomma i personaggi stessi e questi calzini ci sono costati soltanto 5 euro se vi interessano i colori sono giallo acceso abbastanza acceso rosa e lilla ancora calzini questa volta di Barbie e sono pelusciose e rosa e costano 4 euro e 50 dopodiché ha preso anche un pile rosa di Barbie a 9 euro ci sono scritte appunto Barbie nonché cuoricini dice che purtroppo non ha trovato l'agenda grande di Barbie con la relativa penna e di ciò nel corso del video si lamenterà abbastanza perché perché lei l'aveva visto era lì poteva essere suo ma poi ha pensato vabbè tanto ritornerò e quando è tornata non c'era più altra delusione dopo la maglia non tirata giù dal manichino ci fa vedere una camicia da notte color beige con Tom & Jerry raffigurati e questo per 14 euro questa camicia da notte dopodiché per quanto riguarda ancora Tom & Jerry ci fa vedere una maglia col cappuccio appunto con questi disegni di Tom & Jerry con la scritta anche Tom & Jerry che lei dice che sembrano fatti con la bomboletta spray non si sa di che materiale sia quantomeno lei non lo capisce al tatto può essere ciniglia come può essere anche pile dopodiché fa testare questo materiale allungando questa maglia a Luciana che evidentemente è lì con lei e Luciana dice è ciniglia quindi sarà ciniglia questo fantastico maglioncino insomma che non è né pesante né troppo leggero è costato 19 euro dopodiché ci mostra ancora un pigiama perché sapete che quando va da Primark i pigiami non mancano mai per Chiara sempre di Tom & Jerry questo pigiama è grigio, grigio, lilla, non sa neanche lei insomma a me sembra grigio però insomma è fatto sempre con la stampa dei due soggetti cioè del gattino e del topolino è fatto a mo' di camicia e costa 16 euro e ovviamente anche il pantalone perché non possiamo fare insomma che acquistiamo soltanto la camicia alla notte senza poi acquistare il pantalone del pigiama anche questo pantalone sempre dello stesso colore grigio o lilla molto chiaro sempre con il topolino e il gattino stampato e costa anche lui 16 euro e partiamo con quelle che qualcuno molto impropriamente potrebbe definire cavolatelle allora innanzitutto ha preso dei tappetti per gli spazzolini da denti praticamente per rinchiudere, per racchiudere, per coprire quelle che sono le setole dello spazzolino ci sono cinque di questi tappetti molto colorati al prezzo di 1,30 euro dopodiché poteva mai mancare una pochette? poteva mai lasciarla lì questa pochette? assolutamente no ci fa vedere una pochette grande di Spongebob gialla vivo con la faccia appunto della mitica spugna cioè di Spongebob al prezzo di 7 euro ancora una pochette questa volta di Elo Kitty trasparente molto grande con disegni e scritti appunto di Elo Kitty al modico prezzo di 8 euro io direi a questo punto a Chiara visto che ormai di pochette ne ha tante e credo che neanche lei sappia più dove mettersele queste pochette di provare a fare un po' il metodo matrioska nel senso parte della pochette più grande che ha ci mette dentro una pochette un po' più piccola poi quella un po' più piccola poi quella un po' più piccola insomma fino a che credo che riesca a mettere a posto tutte le pochette in un'unica insomma perlomeno ci può provare visto che ne ha di tutte le dimensioni ha acquistato anche un ciondolo per cellulare della linea Sailor con la faccia della gattina Luna credo si chiami insomma questo per 3 euro poi una cover per cellulare sempre di Sailor al prezzo di 4,50 euro lei dice mica lo potevo lasciare lì questo è un mantra che lei si ripete ogni volta che va da Primark dopodiché ha acquistato una custodia per i suoi iPod Pro io credo che già ne abbia diverse di custodie correggetemi se vado errata però insomma anche questa non poteva lasciarla lì ed è sempre della linea Sailor e sempre è la faccina della gattina Luna e questa l'ha pagata 6 euro dopodiché un quaderno sempre della linea Sailor ha 3,50 euro con vari divisori delle varie Sailor quindi c'è Sailor Moon Sailor Venus insomma io non le conosco tutte queste Sailor ma ci sono tutte quante dopodiché ha preso un caricatore per l'iPhone di Barbie al prezzo di 7 euro e poi si parte con i portachiavi anche quelli non possono mai mancare neanche lavorasse in un istituto di pena e quindi avesse tante chiavi da dover mettere a posto in ogni caso questa volta ne ha comprato una delle Brads al prezzo di 1,50 euro lei dice che è bellissimo dopodiché anche un portachiave di Stranger Things al prezzo di 1,50 euro e poi la chicca la cosa bellerrima la cosa bellissima e c'è una borraccia di SpongeBob al prezzo di 8 euro con i brillantini che quando tu bevi e quindi fai su e giù con questa borraccia scendono o risalgono perché è fatto a doppia plastica e nel mezzo appunto ci sono questi brillantini allora io penso che avesse già anche una borraccia quantomeno una che si è acquistata ultimamente che era della Ferragni se non vado errata anche in quel caso disse che era bellissima la pagò anche abbastanza però a quanto pare le borracce non bastano mai se volete sapere il totale di questa mini spesa per lei è di 182 euro e 80 centesimi niente molti di voi si chiederanno dove metterà tutta questa roba però insomma ricordatevi che lei ogni tanto compra anche quelle buste per mettere sotto vuoto quindi speriamo in ogni caso che queste buste non si buchino mai altrimenti potrebbe avvenire un'esplosione nell'armadio in ogni caso questo era tutto io vi ringrazio per avermi ascoltata come al solito se volete lasciatemi un messaggio lasciatemi un like e se volete iscrivetevi al canale ciao a tutti e un bacio grazie a tutti grazie a tutti